Lei è tormenta, a differenza del suo nome è una galghina molto tranquilla, socievole, nel paddock non ha mostrato nessuna difficoltà quando siamo entrati e neanche in passeggiata, si fa condurre molto tranquillamente. È un pochino intimorita dai cani un po' agitati e con i gatti invece se sono fermi o gatti tranquilli non si avvicina neanche, non ha mostrato assolutamente interesse. Mentre ha mostrato interesse se sono in movimento.